Allora, abbiamo avuto il doppio quadro, il quadro della politica del Paese, dell'economia e quello della scienza. A che punto siamo di un'epidemia che comunque segnerà il nostro tempo? Davanti a un'epidemia così grave, a un Paese in una grave crisi così profonda, sembra che la politica abbia difficoltà a decidere. Il governo riunito in un'eterna riunione in cui si mettono a punto mille piccole esigenze e un Paese assettato di risposte che aspetta. E questa è l'impressione giusta? Guardi, io lo dico così. Punto primo, diciamo il governo di questa epidemia. Su questo nessuno può dire che il governo sia venuto a meno i suoi compiti. Noi eravamo i più contagiati nel mondo occidentale, adesso ci hanno già sorpassati in 4-5. Seguono un po' tutti la nostra ricetta, l'indice di contagio che galoppava sopra il 2 eccetera, adesso sarà attorno 0,5-0,6. Abbiamo sentito speranza. Continuare con cautela le aperture. Seconda cosa, tenere in piedi le famiglie e le imprese. Su questa seconda cosa ci sono stati dei limiti. Intendiamoci, il tema principale è questo. Cioè un governo si è trovato a dover correre una gara di Formula 1 su un'utilitaria. Noi non siamo tarati per governare 11 milioni di pratiche in due mesi. Non siamo tarati su questo. Avevamo già dei problemi prima, però detto questo, un paio forse di limiti, spero che adesso si corregano queste cose, ci sono stati. Adesso, non so, nel momento in cui allarghi a dismisura la cassa integrazione in deroga, potevi porti il problema di semplificarla. Perché è un via vai tra regioni, IMSS e aziende che non... Che stava in piedi fino a che erano...